Prima il tentativo di furto, poi l'inseguimento terminato con la corsa a piedi nelle campagne poco distanti. E' stata una notte agitata, quella tra domenica e lunedì in zona Mirabello a Pavia, periferia nord della città. A testimoniarlo è un iscritto al gruppo WhatsApp L24 che si occupa anche di controllo del vicinato. Attorno alle 2 del mattino un'auto con a bordo 3 o 4 ladri si ferma lungo via Mirabello. E' la strada che attraversa il quartiere sulla quale si affacciano diversi negozi e locali. Sembra che i malviventi abbiano preso di mira il postamat dell'ufficio postale anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Forse cercano di sradicare la cassa, ma qualcuno si accorge di quanto sta succedendo e chiama il 112. In pochi minuti sul posto arrivano alcune pattuglie della polizia di stato che individuano l'auto dei ladri e cercano di bloccarla. L'inseguimento però dura solo poche centinaia di metri perché i malviventi abbandonano il loro mezzo vicino al cavalcavia della tangenziale e proseguono la loro fuga a piedi tra i campi. I poliziotti decidono di perlustrare la zona senza successo. Il tentativo di furto, quantomeno, è stato sventato. Lunedì mattina l'ufficio postale era regolarmente aperto, così come gli altri negozi della zona.